Vistoso strappo in consiglio comunale ieri tra il gruppo Maschalice, Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale e l'amministrazione guidata dal sindaco Luigi Messina. Strappo che non lascia presagire una serena sindacatura per il primo cittadino. In particolare nella seduta di ieri, all'ordine del giorno, vi erano due debiti fuori bilancio che sono stati approvati entrambi con sette voti favorevoli e dieci astenuti. Tra gli astenuti consiglieri di maggioranza del gruppo Maschalice, Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, che hanno giustificato l'astenzione perché pur nel mese di maggio avendo chiesto una relazione sullo stato complessivo del contenziote del comune a quanto ammontavano i debiti e di quanto potrebbero lievitare con altre possibili socconvenze, da allora non hanno ricevuto risposta. Non intendiamo più votare al buio debiti fuori bilancio maturati tra l'altro prima che si insediasse questo consiglio, ha detto Alberto Cardillo, consigliere di maggioranza nonché portavoce del gruppo e vicepresidente del consiglio. Ha chiarito invece la sua posizione all'interno del civico consesso il consigliere di opposizione Emanuele Privitera, che lascia il gruppo consigliare Maschali Risorge del candidato sindaco Ernesto Pino, anche se continua a rimanere all'opposizione. Privitera spiega come in più occasioni la possibilità di attuare il programma del gruppo di Maschali Risorge, in particolare con riferimento alla decisa e motivata critica di atti e comportamenti dell'amministrazione da parte dei rappresentanti tutti eletti nella lista civica Maschali Risorge, è stata vanificata dalla mancanza di condivisione di modi, contenuti e tempi di espressione da parte dei componenti dell'omonimo gruppo consigliare. Privitera chiarisce ancora che non condivide né con riferimento all'opportunità, al contenuto e tantomeno alla forma la scelta dei sette consiglieri di opposizione, di rilasciare una dichiarazione scritta nella quale assicuravano i terzi sul loro ruolo di opposizione. Il consigliere Privitera ritiene insanabile la differenza di vedute con gli altri eletti nella lista civica Maschali Risorge ed il relativo gruppo consigliare, sulla concreta attuazione del programma che almeno inizialmente era da tutti condiviso, ma che di fatto risulta snaturato. Per tali motivi il consigliere Privitera dichiara di non fare più parte del gruppo consigliare Maschali Risorge, di non collocarsi in alcun gruppo consigliare e di continuare a svolgere come fatto finora il proprio ruolo di opposizione decisa, in armonia con il programma al quale ha aderito, confermando la sua adessione al Partito Democratico.